ragazzi bentornati in un nuovo video come avete potuto vedere dal trailer hanno rilasciato la mclaren 720s evo e quindi chi siamo noi per non provarla immediatamente eccola qua ragazzi mclaren 720s gt3 evo allora in pratica a quanto ho capito è stata rivista l'aerodinamica in generale il motore è rimasto sempre lo stesso che un v8 biturbo che in grado di erogare 720 cavalli alcune parti della carrozzeria per agevolare eventualmente le riparazioni dovrebbero essere queste qui le alette e i fari sono stati rivisti guardate che bella questa immagine guardate qui i fari sono stati rivisti per migliorare la visibilità nelle gare notturne in tutto ciò in generale l'aerodinamica adesso dovrebbe funzionare meglio e anche i condotti del freno sono stati rivisti in modo da raffreddare in modo più efficiente i dischi dei freni a noi queste modifiche si ci interessano per conoscere anche quello che è il mondo reale però effettivamente quanto è migliorata rispetto alla 720s proviamola sul circuito di branzacci allora ragazzi andiamo di aggressivo non tocchiamo nulla neanche i dischi del freno ma proprio nulla e facciamo eventualmente solo le pressioni e cerchiamo di capire quanto è migliorata rispetto alla vecchia versione il sound è praticamente lo stesso ok decisamente meglio anche con questa visuale riesco a sentirmi molto meglio dentro l'auto vediamo sui cordoli asserbe benissimo anche le sospensioni dovrebbero essere migliorate secondo quell'articolo di HD motori magari poi l'articolo lo metto anche in descrizione perché è molto interessante dalle prime impressioni sarà che ho le ruote sgonfie ma non mi sa di McLaren è troppo morbida vediamo un attimo l'essi riscaldare a gomma non lo so ragazzi non sento non mi sento di essere su una McLaren non sento quella quella rigidità che aveva nella versione 1.7 anche nella 1.8 mi sa proprio un po' troppo facile da guidare un po' troppo morbida non so come di spiegarvelo non mi sa di McLaren ecco ma non lo so mi sa come se fosse la nuova Lamborghini però con un altro sound non sto trovando tante differenze a livello di comportamento forse è un po' la nuova tendenza che ha assetto corsa competizione questa di rendere le auto un po' più piatte se vogliamo ma comunque vediamo magari mi devo solo abituare vedete è troppo facile non lo so me la ricordavo molto più cattiva è molto facile passare sui cordoni molto facile farla inserire è molto facile farla ruotare le pressioni sono tutte a posto 26S ok ragazzi mi sta cominciando a piacere perché quando si inizia a forzare troppo allora esce veramente il carattere ha un veramente un ottimo inserimento una frenata fortissima quasi quasi si può anche esagerare con la frenata e riesce anche a svoltare bene in trial braking quindi si riesce anche a forzare la frenata e poi a riuscire a spuntare la curva esce il suo vero carattere quando si cerca di esagerare tanto sul gas allora diventa un po' scorbutica un po' cattivella però l'unica cosa che non mi convince è come passa così tranquilla sui cordoni il setup aggressivo devo dire che qua su Branzacce si comporta molto bene forse è un pelino sovrasterzante magari ci sarà da tirare un pelino il precarico differenziale o abbassare un po' con l'altezza o la compressione degli ammortizzatori posteriori però devo dire che però devo dire ragazzi che alla fine l'auto è divertente molto molto bella guardate qua ragazzi è stupenda potrebbe sembrare ragazzi uguale ma c'è qualche piccolo dettaglio anche la livrea qualcosa che ti fa dire che è un'altra auto veramente veramente bella e speriamo che sia talmente competitiva da poter vederla in pista insieme alla nuova Ferrari alla nuova Lamba alla nuova Porsche che in pratica ormai hanno un dominio assoluto su tutti i tracciati beh ragazzi queste erano le mie prime impressioni su questa nuova McLaren Evo ci sono alcune considerazioni da fare per quanto riguarda la direzione che sta prendendo secondo me assetto corsa competizione che sta un po' appiattendo il force feedback di tutte le auto diciamo non riesci più a distinguere bene che auto stai portando ma semplicemente poi ti adatti e amen non dico che cambia solo il suono ma tutto sommato c'è poca differenza di sensazioni sotto le mani questo è quello che intendo dire però sono contento che abbiamo riusciato un'altra auto e soprattutto in moto gratuito a poca distanza dall'ultimo DLC quello di Valencia e quindi ragazzi non mi resta che salutarvi e dirvi come sempre ci vediamo in pista per ora I don't wanna be one of the nameless I'ma wake up with the mindset